Buongiorno, sono il dottor Zanna, sono un medico chirurgo e mi occupo di chirurgia orale maxilofaciale da oltre 30 anni. La parte illuminante è deputata all'efficacia di due lampade scialitiche estremamente poco dimensionate, estremamente leggere e anche molto molto facilmente orientabili. La caratteristica di questa illuminazione è quella di avere prima di tutto una potenza notevole perché parliamo di due lampade scialitiche che hanno una potenza di 50.000 lux l'una per cui quando si vanno a sovrapporre abbiamo una potenza di ben 100.000 lux. Lo spot è uno spot che va alle misure di 20 per 30, quindi estremamente ampio. Paragonato a quello della illuminazione che può essere resa da una normale lampada odontoiatrica, da riunito odontoiatrico, abbiamo ovviamente la possibilità di non avere zone d'ombra, un campo sicuramente illuminante molto più ampio e una potenza obiettivamente nemmeno paragonabile. L'altro aspetto importante se lo andiamo invece a paragonare con quello diciamo della classica sala operatoria nella quale troviamo le classiche scialitiche è quello delle dimensioni molto più contenute, della facilità di movimentazione e aspetto molto molto importante, specialmente quando si tratta di strutture odontoiatrici, quali studi odontoiatrici, diciamo, generici, è anche quella legata alla possibilità di applicazione e di montaggio estremamente semplice, senza dover ricorrere a lavori impegnativi per rinforzare strutture che non sono magari adeguate per supportare e per reggere i pesi che sono caratteristici delle normali lampade scialitiche da sala operatoria, molto più grandi ma estremamente pesanti. Quindi in questa maniera diciamo che Tecnomed è riuscita a risolvere una problematica che nell'ambulatorio odontoiatrico, anche in quello specifico diciamo per chirurgia, è sicuramente molto sentito. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Grazie